Si avvicinano ad un noto ristorante del quartiere Zen di Palermo, camminando lentamente e tenendosi sotto braccio. Sono i vertici in ascesa della mafia palermitana che stanno per partecipare ad un summit. Sono gli uomini che, nonostante i colpi inferti dalla magistratura, stavano ricostruendo la cupola per mettere le mani sulla città. L'organizzazione criminale ora è stata bloccata grazie a tre diverse operazioni di carabinieri, guardia di finanza e polizia. In tutto 36 arrestati legati alle cosche di Brancaccio, Resuttana e Passo di Rigano, tre potenze mafiose che si stavano riorganizzando con strategie comuni a colpi di racket e appalti. Le indagini hanno svelato ritorni eccellenti a gestire i proventi del racket e rannunzi a Graviano, sorella di Giuseppe Filippo, boss della cosca Brancaccio, detenuti da anni in regime di carcere duro, ma ancora a regia occulta dei traffici. Fra gli arrestati del Rossi invece ci sono gli eredi dei boss scappati durante la mattanza a Corleonese negli anni Ottanta. Le cosche avevano messo gli occhi anche sul centro commerciale che sta realizzando il presidente del Palermo Calcio, Maurizio Zamparini, e sul nuovo stadio. In questi mesi di indagini e intercettazioni gli inquirenti hanno registrato tensioni frequenti fra i capi come testimoni all'omicidio il 19 settembre scorso di Giuseppe Calascibetta, uno dei partecipanti al summit al ristorante, tensioni che si è temuto potessero portare ad una nuova guerra di mafia.